La prima cosa da capire è che è seguire le linee guida espresse dal ministro Speranza e anche dal CTS e anche dal professor Locatelli e dal professor Brusaferro in tutte le occasioni di incontro che ci sono state in queste ultime ore. La raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni di età. Cerchiamo di fare una riflessione. Quello che deve attirare la nostra attenzione è il rischio di decesso. Il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. La conclusione di questo è che bisogna vaccinare prioritariamente quelli che hanno più di 80, quelli che hanno più di 75 e poi quelli che hanno più di 70 fino ad arrivare a quelli che hanno più di 60. Tutto dipende da questo. Quindi il generale Figliolo uscirà poi con una direttiva riguardo per le regioni e qui rispondo alla disparità tra regioni. Ma uno, un po', come dire, banalizzando, dovrebbe dire smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi o comunque i ragazzi di 35 anni, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche loro. Queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo. Ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista e si fa vaccinare? Questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare prima di farla al governo, alle regioni. Questa è la prima domanda. Con che coscienza la gente salta la lista? Sapendo che lascia esposto al rischio una persona che ha più di 75 anni un rischio concreto di morte. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa sulla disponibilità di vaccini. La disponibilità di vaccini non è caduta, non è calata e tant'è vero che i numeri sono tornati più o meno ai livelli precedenti Pasqua. Credo che oggi siano chiusi a 293 mila vaccinazioni e quindi sta risalendo secondo il trend previsto dalla programmazione del vaccino. Quindi non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti. Quello che occorre però appunto fare è concentrarsi su questa classe di età e la disponibilità di vaccini che abbiamo in aprile da sola permette di vaccinare tutti gli over 80 e gran parte di coloro che hanno più di 75 anni in tutte le regioni. Quindi in questo senso qui occorre è venuto il momento di prendere delle decisioni. Perché? Ma perché questo è al centro anche delle riaperture, quindi della ripresa dell'economia. Se noi riusciamo a ridurre il rischio di morte nelle classi che sono più esposte a questo rischio è chiaro che si riapre tutto con molta molta più tranquillità.